I parenti e amici, per cortesia allontanarsi da questa zona, ora corrono di là e corrono di qua, quindi libero questo corridoio per cortesia, a destra e a sinistra dei cinesini bianchi, per cortesia liberate il corridoio, tutti i bambini di qua del tappeto, tutti in qua, in qua, in qua, in qua, in qua, veloci, dietro di me qua subito i minicuccioli, tutte le altre categorie dietro, signori via tutto, ringrazio la Delfino Triatron, tutti i miei atleti, tutta la mia squadra, devo ringraziare chi dopo, i signori del bar che ci hanno permesso oggi di rompergli un po' le scatole e darci la corrente e dopo vi raccomando, ringrazio naturalmente anche il ristorante che ci ospita, vi raccomando, adesso seguite attentamente le indicazioni che vi dà il tecnico Michele Mondini per quanto riguarda il briefing tecnico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.